Saluto con il calore tipico della città di Biceglie, quindi saluto tutti gli ospiti qui presenti. Parlerò anche con qualche pausa per consentire all'interprete di porgere il saluto anche nella lingua più nota agli ospiti di questa sera. Sì, noi dobbiamo dire anche agli ospiti, a quelli che sono oggi qui presenti in questa cornice splendida del nostro anfiteatro del Mediterraneo che sta ospitando eventi di ogni natura, cinematografica, artistica, culturale, a livello nazionale e internazionale. Tutti gli ospiti voglio spiegare perché recuperiamo questa idea importante che stiamo valorizzando, promuovendo con qualche connotazione, anche particolare, che vorrò sviluppare in pochi minuti.